Adesso abbiamo proprio l'opportunità di continuare il nostro viaggio all'interno della bellezza con una vera bellezza e soprattutto una grande esperta. Valentina, ben ritrovata, ci fa molto piacere averti qua. Ciao Loredana, ciao a tutti, grazie. È veramente un piacere poterti avere qui. E quando arrivi tu io so che si parla sempre di qualcosa di speciale, di bellezza e ci porti sempre qualche chicca. E in questo periodo ci fa veramente tanto piacere perché parliamo proprio di rinascita e abbiamo voglia quindi di avere anche un viso che ci fa sentire proprio rinate. Un aspetto più giovane per far star meglio anche con se stessi. E ti ho portato, vi ho portato Instant Ageback. È un gel quasi in colore, in odore dell'azienda Vita Yes, quindi un marchio, un brand tedesco. Un'azienda che ha sempre prodotto linee cosmetiche per altri brand molto famosi e poi nel 2013 ha deciso di lanciare la propria linea di prodotti e risponde a una nuova esigenza di bellezza con questo prodotto Instant Ageback. Come puoi vedere anche le riviste del settore di tendenza ne hanno parlato molto perché è stato eletto prodotto innovativo dell'anno 2019 e 2020? Perché Instant Ageback è un gel con un doppio effetto, un effetto immediato e un effetto a lungo termine. L'effetto immediato è un effetto lifting in 5 minuti, cioè applicando Instant Ageback sul nostro inestetismo che può essere una ruga, borsa, occhiaia, ma anche un qualsiasi tipo di cicatrice, esiti cicatriziali dell'acne e anche i pori dilatati. Lo riduce fino all'85% immediatamente e questo è stato certificato dall'Istituto Dermatologico Indipendente Tedesco Dermatest con una certificazione a 5 stelle. Quindi vuol dire proprio una certificazione importante, no? Che parla proprio della qualità. Io stavo nel frattempo, Valentina, stavo vedendo proprio la qualità del prodotto che vedo che è troppo trasparente. Sì, è un gel quasi in colore che quindi si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di incarnato e in più contrasta il colore bluastro delle occhiaie quindi ci aiuta anche a ridurre magari quell'alone scuro che si forma intorno alle nostre borse. guarda questa persona prima e dopo perché l'effetto in questo caso è immediato quindi in 5 minuti ha uno sguardo più rilassato, più riposato. Questa signora ha la borsa sotto l'occhio completamente liftata perché? Perché è un effetto lifting, è un effetto botox. Questa signora non ha più le zampe di gallina però è un effetto botox ma senza prodotti o comunque tecniche invasive ed è un effetto che dura a secondo del tipo di pelle e dell'età dalle 8 alle 12 ore. La cosa importante è che ha anche un effetto curativo a lungo termine cioè se noi lo applichiamo per almeno 30 giorni sul nostro inestetismo questo è un effetto prima e dopo nei 5 minuti si riduce l'inestetismo fino al 30% quindi quasi riduciamo il nostro inestetismo di un terzo. Ecco aspetta che è tantissimo. È tanto. Senti Valentina facciamo così, a noi piacciono le evidenze quindi io voglio dare il benvenuto a Claudia che è qui con noi gentilmente, ci tiene compagnia sempre più bella Claudia. Si vede che lei poi li utilizza i prodotti che presentiamo. Allora, Claudia ci fa vedere proprio come si utilizza questo prodotto che ricordiamo è proprio un prodotto immediato quindi mi dà un effetto lifting immediato. Allora, si preleva una piccola quantità pari ad un chicco di riso su un polpastrello, si sfrega con l'altro polpastrello per attivare il prodotto dopodiché si applica picchiettando quindi non va massaggiato, non va fatto assorbire e il prodotto ha subito efficacia noi adesso ci aiuteremo con un ventaglio per accelerare per i tempi televisivi ma immediatamente il prodotto a contatto con l'aria siccome all'interno sono contenuti dei minerali naturali che a contatto con l'aria hanno questo effetto tensore quindi effetto lifting e vanno a distendere la pelle che è già distesa dall'argirelina perché bisogna dire che l'argirelina è un peptide composto da sei aminoacidi responsabile proprio dell'attività distensiva della pelle ecco anche perché riduce mettendolo per almeno 30 giorni riduce l'inestritismo perché blocca proprio l'informazione della cute a contrarsi in quel preciso punto quindi si dice che perde la memoria la ruga nel senso che tutti i giorni applichiamo questo e quindi la ruga non si contrae di conseguenza dopo 30 giorni non c'è più diciamo la memoria di contarsi e quindi si distende il nostro inestetismo puoi vedere tu stessa la differenza tra un occhio e l'altro lei l'ho applicato anche sulle zampe di gallina è proprio un effetto lifting, un effetto tensore, un effetto botox senza aver utilizzato tecniche invasive e soprattutto poi con un prezzo, insomma il 21% di risparmio su questo prezzo un'offerta lampo da prendere al volo allora Claudia ci sta facendo vedere chiaramente l'utilizzo di un ventaglio ma perché siamo in tv e chiaramente ci teniamo a mostrarvi gli effetti in breve tempo a casa non è necessario ovviamente utilizzare il ventaglio lo mettete su e nel giro di breve lui chiaramente farà il suo effetto quanto mi dura questo effetto Valentina? allora a seconda dell'età e del tipo di pelle può durare dalle 8 alle 14 ore la cosa diciamo bella è che nel momento in cui vediamo che magari non c'è più l'effetto si può tranquillamente lavare e riapplicare il prodotto quindi può durare anche 24 ore volendo ah bene, quindi lo posso mettere anche tutti i giorni? certo, anche tutti i giorni e anche più volte al giorno se l'effetto finisce non c'è nessuna controindicazione in merito anche perché la cosa innovativa di questo prodotto è che Vita Yes è l'unica azienda al mondo ad essere riuscita a stabilizzare, a stabilizzare, questa è la parola chiave l'argirellina all'interno di questo gel perché anche altri prodotti hanno il 10% di argirellina ma in forma liquida quindi se io apro la confezione dopo un mese Vita Yes, Instant Age Back ha comunque lo stesso effetto dopo 12 mesi perché il PAO, quindi l'efficacia del prodotto dura fino a 12 mesi invece negli altri prodotti dopo poco che è aperto non funziona più quindi ecco anche perché lo puoi riapplicare più volte al giorno perché tanto fino a 12 mesi non perde la sua efficacia abbiamo sempre questo effetto lifting in 5 minuti quindi se capisco bene Valentina qui c'è proprio una ricerca particolare quindi la peculiarità è proprio gli attivi il modo in cui sono stati creati, miscelati e dosati all'interno per poterci dare la sicurezza di un'efficacia che dura nel tempo anche nella confezione anche nella confezione esatto in più la confezione dura sicuramente per almeno 30 giorni perché è stata proprio concepita per essere applicata solamente un chicco di riso certo se l'inestitismo è più evidente o più marcato ne serve un po' di più comunque è stata studiata proprio per durare almeno 30 giorni come puoi vedere dei primi e dopo delle foto questa signora che aveva delle rughe importanti anche sulla guancia non ne ha più questa signora non ha più le borse, le zampe di gallina è completamente ringiovanita possiamo dire è un aspetto più giovane quindi praticamente Valentina se ho capito bene io lo vado proprio a mettere un chicco abbiamo detto su ogni ruga che io ho quindi metti caso io avessi intorno agli occhi ecco intanto vediamo Claudia wow guardate che differenza sembra proprio rimpolpata non solo che non ci sono le rughe sembra rimpolpata sì levigata proprio effetto lifting è scomparsa completamente la borsa sotto l'occhio le zampe di gallina laterali vedi non ci sono più e leggermente si è anche sollevato un po' il sopracciglio proprio per questo effetto tensore effetto lifting esatto guardate che differenza cioè la cosa bella è che questo è un prodotto immediato allora ce lo state chiedendo giustamente fate bene abbiamo tutti voglia di rinascere di ridare al mondo un volto bello sereno e con Vita Yes lo possiamo fare quindi mi raccomando approfittate ne stiamo vedendo instant age back quindi una crema proprio effetto lifting che ci consente finalmente di darci questa efficacia sulle rughe anche quelle profonde c'è questo è un prodotto che ti dà un sacco di soddisfazioni proprio sulle rughe quelle vere e quelle profonde allora il codice mi fa sempre molto piacere qui su gm24 poter parlare di prodotti veramente eccellenti come questo kit allora qui vedo un effetto immediato anche in questo caso di cosa si tratta? la crema è sempre il gel è sempre lo stesso cambia il formato perché magari per una serata un'occasione particolare non abbiamo bisogno di portare tutta la crema possiamo tranquillamente utilizzare la nostra monodose che ha lo stesso effetto effetto lifting in 5 minuti e se applichiamo più volte nell'arco del mese instant age back sul nostro anestetismo lo riduciamo di quasi un terzo quindi fino al 32% ci tenevo a dire che questo è stato certificato con uno studio insieme all'università di Modena e Reggio Emilia che ha certificato l'efficacia di instant age back soprattutto per le cicatrici per asportazioni magari di nei oppure per i cheloidi ecco infatti che anche quello è un grande problema quindi vuol dire che qui all'interno abbiamo dei prodotti assolutamente certificati con la possibilità di avere l'eccellenza sul nostro viso ecco perché vi dicevo ecco questa foto è dirimente ci fa capire molto sì perché come vedi sembrano proprio levigate le rughe liftate le borse sgonfie guarda questa signora aveva una borsa che arriva fino a quasi metà della guancia non c'è più ma anche vedi il colorito era bluastro questa guarda è fenomenale perché è una cicatrice quella è una cicatrice quella è una cicatrice è completamente scomparsa ma anche per esempio sui pori dilatati ha questo effetto lifting guarda questa persona era veramente segnata è veramente segnata dal tempo questo è l'effetto dopo 5 minuti quindi pensa se dopo 5 minuti è così pensa dopo 8-14 ore è ancora così poi magari è finito l'effetto lo riapplico e se lo riapplico per almeno 30 giorni posso ridurre quasi di un terzo e fino al 32% il mio inestetismo quindi non dico che toglierà completamente tutte le rughe però le riduce notevolmente e ricordiamo senza trattamenti invasivi quindi solo con l'applicazione di Instant Age Back picchiettato sulla singola ruga sul singolo inestetismo quindi lo andiamo a picchiettare qui abbiamo anche due monodosi proprio per effetto immediato quindi questo potrebbe essere anche secondo me un kit da regalare noi vogliamo fare un regalo di Pasqua ad una nostra amica o un nostro amico perché anche gli uomini ci tengono a appunto camuffare magari un cheloide piuttosto che una cicatrice piuttosto che le rughe questo è proprio un bel regalo anche qui abbiamo 5 euro di risparmio allora l'abbiamo visto poi in diretta l'efficacia sulla nostra bella Claudia vedete che l'emiviso che è stato trattato sembra quasi che sia rimpolpato non solo non c'è più che è questo qui a destra non solo non c'è più la zampa di gallina ma sembra la pelle proprio rimpolpata sì levigata perché poi Instant Hedge Back forma una sorta di pellicola trasparente sull'inestetismo e questo nasconde tutto quello che c'è sotto che è stato disteso dall'argirellina e allora approfittiamone c'è un'offerta speciale vi do il codice 1 4 0 9 1 4 io voglio ringraziare tantissimo Valentina per la tua professionalità e competenza e per i prodotti che ci porti voglio ringraziare anche Claudia e grazie a voi per essere stati con noi GM24 grandi momenti di shopping 24 ore al giorno e grazie a tutti